Essere farmacisti significa far parte di una comunità e se la nostra luce resta accesa anche di notte, è per ricordarti che siamo sempre al tuo fianco. Farmacia Carino, con te, dal 1917. Vista in questa settimana la presentazione del nuovo direttore sportivo Pasquale Lo Giudice. Si inizia finalmente a parlare di nomi e profili su cui la società sta lavorando dietro le quinte da un paio di giorni. Con il preannunciato da tempo di Agniele Cinelli in panca arrivano le riconferme, quelle pesanti dell'attaccante Ciro Foggia e del difensore Paolo Romasto, giocatori che costituiranno indubbiamente la spina dorsale della squadra. Accordo in arrivo con l'attaccante esterno Simone Addessi, già acquirotto nella stagione di Serie C 2019-2020, lo scorso anno autore alla mezza di 12 centri. Un giocatore che sa unire velocità e tecnica e che potrà dare profondità alla manovra offensiva in una prospettiva futura di un attacco a tre punte. Vi saluto con il dolore nel cuore ancora. Dopo quasi due mesi non riesco a credere ancora a quello che è successo, però me ne vado tranquillo perché ho dato tutto dentro come fuori dal campo. Con questo messaggio affidato ai social, Rafael Munoz ha voluto salutare così ufficialmente. La parentesi a cava del difensore spagnolo non passerà inosservata. Il suo adattamento a esterno destro tutta fascia durante la stagione appena passata ha fatto la differenza, garantendo ad ogni partita fluidità nel gioco e la giusta esperienza unita ad una grande fisicità. In via d'uscita, oltre agli attaccanti Bacio Terracino e Ezequiel Banegas, anche il difensore centrale Enrico Altobello, corteggiato da diverse squadre di D, ma che sembra vicino al San Marzano. Per le altre di D, la nocerina ufficializza l'acquisto dell'attaccante Gianmarco Piccioni, dopo l'esperienza con la maglia dei biancorossi di Molfetta, Ciro Coratella è ad un passo dalla Gladiator. Per l'attaccante classe 1999, sarebbe un ritorno in campagna, dopo l'esperienza di Nora nella stagione 2021-2022. In Sicilia, il Siracusa tratta il rinnovo dell'esperto attaccante Luca Ficarrotta. È ufficiale l'innesto dell'ex Catania, Giamma, in casa Agragas. In Puglia, il Nardò, dopo alcune importanti riconferme, come quella di Mr. Ragno, del difensore centrale argentino Urchisa, è vicinissimo a siglare l'accordo con l'esterno d'attacco Simone Danna, l'anno scorso a Brindisi. Dotato di grande carattere e tenacia, il giocatore di San Pietro Vernotico si è dimostrato un autentico trascinatore.